La prossima conferenza continuerà a trattare questo argomento che ci interessa molto da vicino a tutti noi e ci fa paura in qualche maniera, è l'insorgenza del cancro. Lucio Luzzatto ci parlerà di questo argomento. Io ringrazio molto il Presidente e il Comitato Organizzatore per l'invito. Rispetto a altri speakers ho due svantaggi. Il primo è che il mio compito è di affrontare un problema, come è stato appena detto, non piacevole. Il secondo è che rispetto ai miei predecessori ho i telomeri più corti. In compenso ho un vantaggio e cioè che hanno dato delle introduzioni autorevoli e estremamente chiare. E dunque mi baserò su questo. Secondo le istruzioni del Presidente, qui c'è il mio email per eventuali domande. Nell'insegnamento della medicina è classico di chiedersi per molte malattie, direi che va chiesto per ogni malattia, quanto è la componente ereditaria e quanto è la componente ambientale. Anzi, quando io ero studente, insomma, facciamo due generazioni fa, molta ghiatriba c'era se questa malattia è genetica o è ambientale. Adesso è ovvio a me, come probabilmente a tutti, che la domanda era non posta molto bene. In realtà tutte le malattie hanno una componente ereditaria e una componente ambientale e si tratta di capire dove sta una malattia su questo spettro che va dall'ambiente all'eredità. E non posso dilungarmi, credo che intuitivamente voi capirete perché ho dato degli esempi, diciamo, che coprono questo spettro, ma la domanda è dove sta il cancro. E il cancro, come sapete, è una... Ecco, mi è piaciuto molto che è stato tentato di dare addirittura una definizione della vita. La definizione di cancro è forse più facile, ma non facilissima. Si tratta, io penso, due questioni sono caratteristiche del cancro. La crescita esagerata e la crescita disregolata. Dunque, questo direi che è l'essenza. E questa crescita è dovuta, come vedremo tra un momento, a dei fenomeni genetici ben caratterizzati. Perciò, se pensiamo a questa definizione all'essenziale, vedete che poi come si manifesta è svariatissimo. Questo è un cancro cutaneo, questo è un cancro bronchiale, questo è un cancro ematologico, il mieloma multiplo. Allora, dove lo mettiamo il tumore in quella spettro? Io lo metterei essenzialmente in mezzo, perché certamente ci sono per vari tumori, alcuni molto più su questo lato, altri molto più su questo lato, e qui mi sono attenuto a una media. E per cautela ci ho messo anche un punto interrogativo. Vediamo allora se abbiamo dei dati su questo argomento. Ecco, qui vi faccio vedere uno strumento classico ed essenziale della genetica di qualunque animale, compreso l'animale umano, e cioè il pedigree. La genetica funziona analizzando alberi genealogici di famiglie. E qui non occorre essere né un genetista né un oncologo per accorgersi che in questa famiglia purtroppo c'è un eccesso di tumori e che per di più questi tumori tendono ad essere particolari, particolarmente breast e ovario. E infatti questa paziente, che io ricordo bene, era una giovane donna che aveva questa storia alle spalle e che voleva sapere se anche lei sarebbe data incontro allo stesso fatto. In effetti, non posso entrare nei dettagli, in effetti era esattamente quando ero allo Son Kettering e abbiamo messo su un ambulatorio specifico consultorio genetico dei tumori ed è stata una delle prime in cui abbiamo studiato quello che io chiamo l'effetto ansiogeno del test genetico per i tumori e dopo numerose discussioni lei ha insistito per fare il test e abbiamo scoperto l'effetto anti-ansiogeno del test genetico per i tumori perché per fortuna lei non aveva ereditato la mutazione che aveva dato il tumore in questi suoi ascendenti. Per quanto riguarda l'ambiente, recenti review hanno identificato dieci fattori ambientali che aumentano il rischio di tumori in grado diverso e ognuno di questi richiederebbe un seminario a parte. È chiaro, ad esempio, che dice ma cosa c'entra la unprotected sexual activity col cancro? Di per sé non c'entra affatto, però ci sono dei virus come quello del papilloma che si trasmettano per via di rapporto sessuale e che quando entrano nell'epitelio, in certi epiteli umani, possono poi generare un cancro. Ecco che il cancro è una malattia molto complessa, le tipologie di tumori sono svariate e dunque dobbiamo analizzare uno per uno quali sono i fattori ambientali importanti. Tra questi esistono purtroppo molti mutageni nell'ambiente, in vari aspetti dell'ambiente e questo qui l'ho messo perché mi sembrava appropriato dato il logo di questa conferenza. La International Agency for Research Against Cancer fa un lavoro eccezionalmente importante nel classificare le sostanze come carcinogeniche o probabilmente carcinogeniche o non classificabili, vuol dire non abbiamo sufficiente evidenza per sapere in un modo o nell'altro. Come vedete ci sono 105 che sono, diciamo, ufficialmente certificati carcinogeni. Molto, molto, molto importanti. e la IARC ha svolto e continua a svolgere questo lavoro ma notate un fatto abbastanza preoccupante. Di sostanze non ancora studiate si stima che ce ne siano almeno 100.000. Dunque è la punta di un iceberg quello che effettivamente abbiamo dimostrato. è di attualità e perciò ve lo faccio vedere solo poche settimane fa è uscito questo press release molto importante della stessa agenzia che ha classificato la outdoor air pollution in parole povere l'inquinamento atmosferico delle città soprattutto come ufficialmente una causa di cancro esattamente come le altre 105. ci tengo a dire perché è bello la sua memoria che chi ha iniziato questo tipo di classificazione che ha stabilito l'autorevolezza dell'organismo nel sancire un cancerogeno è stato Lorenzo Tomatis il direttore dell'IARC per 15 anni. E' chiaro che in questa lista molti di voi avranno notato una carenza e cioè la scienza è tale solo quando è quantitativa se noi non diamo non diamo dei coefficienti a questi responsabili abbiamo detto molto poco e a questo proposito io devo prendere posizione perché rispetto a tutti gli altri questo è la gente io ho un compito istituzionale presso l'Istituto Toscano Tumori e mi sono assegnato che ogni volta che parlo in pubblico questo lo devo dire perché attualmente il modo più semplice di eliminare una percentuale significativa di tumori polmonari la maggioranza e anche di molti altri organi sarebbe eliminare le sigarette. L'artista qui ha voluto con una certa genialità accomunare la persona che fuma con l'inquinamento urbano a cui ho accennato prima. Allora ereditarietà e ambiente sono i due fattori ma a questo punto vi devo segnalare una particolarità fondamentale dei tumori e cioè che la genetica centra nei tumori in due modi sostanzialmente diversi. Il primo è quello tradizionale cioè si può ereditare una mutazione che favorisce l'insorgenza dei tumori e di questo che ho parlato prima. Ma l'altro fenomeno è radicalmente diverso. La maggior parte delle cellule come ha detto Maurizio Gatti la maggior parte delle cellule del nostro organismo le chiamiamo appunto somatiche non c'entrano niente con la generazione successiva ma sono quelle che compongono la maggioranza del nostro corpo. Se c'è una mutazione qui può passare alla generazione successiva ma non fa male all'individuo in cui succede. Viceversa una mutazione in una cellula somatica non avrà nessuna conseguenza sulla discendenza ma può dare in questo soggetto delle conseguenze assai gravi addirittura la crescita di un tumore. Perché avviene questo? Avete visto prima e mi ricollego a quello che ha detto Anna Tramontano avete visto prima la replicazione del DNA. Ebbene il meccanismo come è stato detto è di una semplicità affascinante è estremamente accurato ma non è perfetto perché nessuna macchina fisica può essere perfetta. raramente capitano degli errori e sono errori che noi chiamiamo mutazioni. Naturalmente ci sono anche mutazioni che non vengono dalla replicazione ma questo secondo me è più essenziale perché è la parte delle mutazioni di cui non si può fare a meno. Il meccanismo come ho detto è molto buono c'è correzione di bozze come noi lo chiamiamo ma non è infallibile. Si calcola che con tutti i meccanismi di aggiustamento ci sia un errore ogni 10 alla 7 e siccome come avete sentito sono 10 alla 9 ci sono pochi errori in ogni replicazione del DNA. E qua vi ho fatto un po' di numerologia su cui sorvolo ma siccome l'organismo umano è circa 10 alla 14 cellula si è calcolato che in un adulto le mutazioni accumulate siano dell'ordine di 10 alla 12 e addirittura che praticamente in una cellula o nell'altra del mio corpo qualunque gene almeno una mutazione. Che cos'è allora il tumore? Essenzialmente anche se siamo o che non siamo predisposti un tumore non si forma senza mutazioni somatiche rappresentate qui da questi fulmini a ciel sereno e sappiamo che una mutazione per fortuna non basta c'è stata selezione naturale che ha diciamo selezionato contro qualunque organismo in cui una mutazione dia un tumore perché se bastasse una mutazione dare un tumore saremo tutti morti di tumore prima di arrivare alla scuola elementare. ma invece accumulare diverse mutazioni nella stessa cellula o nella sua progenie è un processo più complesso e pertanto vedete che la formazione di un tumore è essenzialmente dovuto a un clone mutato all'interno di questo clone una delle cellule va incontro a un'altra mutazione e così via finché sia il tumore vero e proprio e la selezione darwiniana di cui si è parlato si applica all'interno di questo processo perché ogni volta che la cellula mutata cresce un po' di più delle precedenti ecco che si ha il rischio di crescita aumentata e perciò alla fine di un tumore oggi questo che vi ho detto fino a qualche anno fa era considerato un modello molto probabile con molte evidenze indirette ma credeteci che ci crediate o no c'erano ancora degli scettici che dicevano ma no non è in realtà il tumore è una malattia degenerativa o è succede perché c'è un mutato rapporto tra le cellule del tessuto e lo stroma e via dicendo bene oggi non è più soltanto un modello oggi è dimostrato perché è possibile attraverso le potentissime tecnologie del sequenziamento del DNA spesso chiamate con un po' di diciamo di glamour o di esagerazione il next generation sequencing perché insomma noi possiamo solo sequenziare in questa generazione ma diciamo io preferisco chiamarlo high throughput sequencing cioè sono macchine potentissime con attaccato una bioinformatica formidabile se qualcuno di voi diciamo pensa alla biotecnologia come carriera pensi anche alla bioinformatica e che cosa succede che noi possiamo prendere il genoma prendere il DNA del tumore sequenziarlo tutto non una volta ma dieci cento volte quello che si chiama deep sequencing per vedere anche le mutazioni rare solo in alcune cellule e facendo questo si ottiene quello che viene chiamato di nuovo con una certa enfasi landscape il panorama delle mutazioni somatiche in un singolo cancer genoma notate che siccome sono mutazioni somatiche abbiamo un ottimo controllo interno cioè sequenziamo anche il DNA non tumorale dello stesso soggetto ed è la differenza che ci dice quali sono le mutazioni del tumore presumibilmente alcune di queste responsabili del tumore e qui vedete non posso naturalmente entrare nei dettagli c'è tutto un codice per cui vedete le mutazioni dovute a perdita di geni o di basi le mutazioni puntiformi e i copy number changes cioè quando ce n'è tre copie una invece di due ma la cosa più secondo me spettacolare che prima si credeva una prerogativa delle neoplasie ematologiche ma adesso sappiamo che è ben più estesa è questo che vedete qui cioè questo è il cromosomo 14 questo è il cromosomo 8 questa linea che le collega indica che c'è un evento mutazionale che coinvolge entrambi in altre parole un gene del cromosomo 8 si è fuso con un gene del cromosomo 14 e vedete che in questo particolare tumore ci sono vari di questi noi li chiamiamo riarrangiamenti intercromosomiali e ovviamente questo non è errore di ripetazione del DNA è qualcosa se mi permettete molto peggio molto più diciamo grave e in effetti alcuni dei geni così formati si chiamano fusion genes geni di fusione sono tra i più potenti promotori dell'oncogenesi guardate come un'altra conferma viene dal paragonare un tumore come il retinoblastoma che si ha purtroppo nei bambini piccoli o un tumore come il carcinoma ovarico molte più mutazioni in questo che in questo e questo ci dà è molto importante perché ci dà qual è il numero minimo di mutazioni per dare un tumore e io calcolo che sia fra 3 e 6 negli ultimi anni sono comparse mutazioni ancora più spettacolari questo è stato chiamato come vedete un singolo cromosoma pulverizzato e poi rimesso insieme ma nell'ordine sbagliato questo fenomeno che io penso se avessi parlato di qualcosa del genere al mio esame di genetica mi avrebbero certamente bocciato mi avrebbero detto ma sei pazzo questo non c'è nessun meccanismo possibile ebbene evidentemente il meccanismo possibile c'è anche se in cellule tumorali non sappiamo se c'è nelle cellule normali io penso che ci sia ma che viene tenuto a bada mentre nella cellula tumorale diventa attuato ebbene questo è stato chiamato col bellissimo termine greco di cromotripsi e guardate per dare un'idea come esplosivo non solo il cromosoma ma anche la ricerca e il primo lavoro è del 2011 gennaio e nel prossimo due anni sono usciti più di 50 lavori e questo fenomeno è adesso stato trovato in una varietà di tumori oltre all'osteosarcoma dove è stato inizialmente scoperto l'analisi deep sequencing ha un potenziale enorme di capire quello che ci ha accennato Maurizio Gatti cioè la parte più pericolosa del tumore come la sua evoluzione e soprattutto la capacità di metastatizzare e vedete che si trova quanto è importante questa analisi qua per esempio confrontato un tumore primario la metastasi e addirittura il tumore riprodotto in un cosiddetto xenograft cioè riprodotto in un topo e vedete quanto sostanzialmente è rimasto uguale dunque questo ci dice che questo è il genoma che caratterizza quel tumore e una possibilità di identificazione che quando ho cominciato a studiare le neplasie ematologiche sarebbe stato assolutamente impensabile ad esempio un'altra conseguenza di questo fatto è stata la neonosografia dei tumori questo è il breast cancer breast cancer è tumore della mammella è una diagnosi bene quando si fa l'analisi mutazionale si scopre che questo complesso che viene un po' pomposamente chiamato la firma è diverso in certi tumori e hanno classificato il gruppo di Max Stratton cinque firme o come è stato detto prima barcode dunque sono essenzialmente cinque barcode che ci dicono una cosa molto importante che la diagnosi di breast cancer in realtà non è una diagnosi è una diagnosi di genere o di categoria ma la diagnosi vera del breast cancer è o questa o questa o questa e forse anche altre e a questo proposito un lavoro molto recente ha dimostrato che su alcune ma non altre di queste firme può succedere un altro fenomeno veramente fenomenale e cioè che vicino a uno di quei riarrangiamenti di cui vi ho parlato c'è letteralmente un profluvio di mutazioni è stato usato il termine di ipermutazione associata con il riarrangiamento e questo addirittura è stato usato un termine greco kataegis che vuol dire spero che ci siano dei greci presenti che lo traducono meglio ma sostanzialmente un temporale per me almeno l'unica parola giusta